Allora, continuiamo con questo discorso del prodotto vettoriale su due cose. Secondo voi, se io faccio il prodotto vettoriale tra i e b e faccio il prodotto vettoriale tra b ed a, viene la stessa cosa? Cioè, il prodotto vettoriale è commutativo o no? No. Allora, ovviamente trabocchetto. Perché? La risposta è no. Per una cosa, per quanto riguarda il verso, ragazzi. Perché se voi, ad esempio, avete a, questo è a, e avete b, to, ve lo metto già perpendicolare. Allora, se voi fate a per b, con la regola della mano destra, viene c, che è uscente. Ok? Quindi in questo caso viene c, che è uscente. Se voi fate b per a, con la regola della mano destra, quindi indice su b, scusate, pollice su b, indice su a, viene entrante. Quindi significa che, ad esempio, se a per b fa più 6k, b per a fa meno 6k. Infatti ci dice che il prodotto vettoriale è anticommutativo. Nel senso che gli ordini, diciamo, l'ordine può cambiare se ci mettete davanti un meno. Importante. Cioè, è importante perché, capiamo un attimo. Seconda cosa, applicazioni in fisica del prodotto vettoriale. Applicazione importantissima, il momento a forza, che voi avete fatto, state facendo comunque in meccanica. e, allora, il momento di una forza, voi lo chiamate M grande o tau? M grande. È definito come il prodotto vettoriale tra R, che vi spiego un attimo cos'è. Ragazzi, R non è propriamente il braccio, eh. E, prodotto vettoriale, la forza, che crea il momento. Esempio molto stupido, e adesso capiamo anche come si trova. Immaginate di avere una porta, ok? Una porta che viene vista dall'alto, quindi, questo che disegna il cardine, quindi è il punto che rimane fisso, che non partecipa alla rotazione. Lo chiamiamo polo. P, quindi. E, applichiamo una forza. Secondo voi, ragazzi, se dovete ottenere la massima rotazione, dove lo applichiamo la forza e in che direzione? All'estremità. Esatto. L'applicate all'estremità, per massimizzare R, e lo applicate perpendicolare, per massimizzare il seno. Perché? Così abbiamo un angolo di 90 gradi. Quindi, anche se tutti i bambini, anche per aprire una porta, non è che dicono, eh, come faccio a spingerla, comunque la maniglia stessa è posta il più lontano possibile dal cardine, e in modo che io applichi una forza perpendicolare al raggio vettore. La nostra forza si concentra. Esatto. E la forza è concentrata su questo punto qui. Allora, ragazzi, che cos'è R? R è il vettore che va, attenzione, dal polo al punto d'applicazione della forza. Quindi R, che adesso vi disegno, va da qui fino al punto d'applicazione della forza. Vettore R, mentre la forza F sarebbe propriamente più giusto non disegnarla così, ma disegnarla come punto d'applicazione, nel punto in cui viene applicata, che è questo, e poi in questo modo. Ok, questo è il disegno puro. R è quello che voi, in modo così, così, chiamate braccio. Perché il braccio è, e poi ve lo faccio vedere, soltanto la componente perpendicolare alla forza, come definizione. Questo invece è il raggio che connette il polo al punto d'applicazione della forza. In questo caso, il modulo di R è il braccio, perché è perpendicolare ad F. È un caso. Quindi, voi sapete questa ruota, ragazzi, questa porta come ruota? In che verso ruota? Vedendola dall'alto? Allora, e perché? Perché a lei immaginate, no? Che la forza, lì c'è il perno, la forza tira, allora, dal punto di vista vettoriale, proviamo appunto a calcolare la direzione e il verso di questo prodotto vettoriale. Allora, se adesso noi mettiamo, prima di tutto, la direzione è facile, perché R ed F sono sul foglio, quindi il momento è perpendicolare, quindi è diretto lungo Z. Allora, si mette l'indice come R, si mette il, scusai, si mette il pollice come R, si mette l'indice come F, e quindi il momento è un vettore che va lungo più K o meno K. Più K, quindi è più Z, ok, o più K, comunque. Allora ragazzi, una cosa, la regola del cacciavite, che è legata alla regola della mano destra, dice che, quindi, altra regolina molto importante, se voi il pollice, sempre con la mano destra, lo mettete nella direzione del momento, in questo caso il pollice quindi è uscente, aprite la mano e la chiudete, generate il verso di rotazione, ok? Quindi, questo momento applicato in questo modo, aprite e chiudete, vi dice qual è la rotazione che si crea, quindi in questo caso, col pollice uscente, aprite e chiudete, abbiamo una rotazione di tipo anti-orario, ok? Quindi, dire così e per un momento dire così è la stessa cosa, ok? D con entrambi più K dal punto di vista vettoriale. Quindi, è un modo anche per capire in situazioni di forze o bra... o diciamo raggi vettori complicati come ruota. Intanto vi faccio vedere subito una cosa, il concetto di braccio. Allora, se voi avete una... questo è un esercizio che ho fatto con una ragazza poco tempo fa. Avete una carriola, ok? Mi limito a disegnarli in modo molto brutto, però tanto da capire. Questa è la trave. Qui sono i due appoggi e la carriola magari contiene poi un po' di... un po' di terra. Allora, ragazzi, intanto secondo voi qual è il perno? Qual è il punto che rimane fisso nella rotazione? È la ruota. Ok? È il punto che rimane fisso qui nel nostro polo. Ovviamente su questa carriola agiscono tante forze, una forza ad esempio è la forza peso della carriola che è applicata nel suo baricentro e che va verso il basso. Se ora io vi chiedo il raggio vettore ovviamente il raggio vettore va dal polo fino a il punto in cui è applicata la forza. ma la forza è applicata nel suo baricentro ok? Perché è una forza peso. Poi se voi meccanica la distribuite balle è uno studio più complicato però per lo studio del momento ok? Per sapere quanto fa il momento cosa si fa? Prima di tutto questa cosa qui creerebbe una rotazione oraria o antioraria? Visto così velocemente? Perché? Allora ragazzi il braccio in questo caso è questo. questo è il braccio perché? Perché rispetto ad R è la componente perpendicolare alla forza F cioè è l'unica quantità diciamo che partecipa che crea la rotazione ok? Il braccio è la parte perpendicolare a raggio vettore perpendicolare alla forza è l'unico pezzo che crea che permette la rotazione Allora nella formula definita come prodotto vettoriale c'è R ma l'unica parte ok? che partecipa alla rotazione è B e allora tu mi dici scuso ma allora perché non ci mettiamo dentro B subito? Perché il raggio vettore definito come la distanza come diciamo il vettore che collega il polo alla al punto d'applicazione della forza è quella la sua definizione poi l'unica cosa efficace è il braccio ok? Quindi abbiamo se noi dobbiamo fare R per B allora bisogna mettere il primo dito quindi il pollice come B ok? perché è l'unica parte che è l'unica parte efficace poi si mette F in giù e quindi il terzo vettore cos'è? un più K o meno K come prodotto vettoriale? Entrante no? Quindi è meno K quindi il momento di questa forza è entrante cosa vuol dire che è entrante? che con la regola del cacciavite quindi questo momento ok? è entrante e quindi come rotazione crea una rotazione oraria che voi potevate già immaginare no? che il peso tende a creare una rotazione oraria però dal punto di vista matematico si trova la direzione di M e poi con la regola del cacciavite si fa così ok? ci saranno poi altre forze che invece creano rotazioni anti-orare come ad esempio la reazione vincolare della carriola o forze che io potrei applicare qua per sollevare la carriola no? creare rotazioni dell'altra parte quindi piccola distinzione tra cos'è il raggio vettore e cos'è il braccio ok? è l'unica parte efficace per rispondere bene a Nicolò comunque ti ricordo che il modulo di un prodotto vettoriale che cos'è? è il modulo della forza per il modulo del raggio vettore per il seno che c'è tra raggio vettore e la forza allora questo è il braccio ok? è per quello che molti meccanici dicono il momento è la forza per il braccio sì un attimo però è la forza per il braccio dove il braccio è la componente solo perpendicolare del raggio vettore alla forza ok? quindi braccio deve essere sempre perpendicolare alla forza altrimenti non è il braccio ok? e con questo abbiamo concluso il discorso prodotto vettoriale volevo fare con voi però un esercizio sempre di fisica barra meccanica con l'applicazione di queste formule perché altrimenti potrebbe non servire a niente quindi come ho detto sembra più una lezione di meccanica ma importante quindi è un esempio di equilibrio statico di di tante forze per capire un po' cosa sta succedendo allora ve lo metto giù così abbiamo un'asta ok? di anche lei una certa massa e la massa dell'asta è di 30 kg poi quindi potete immaginare che sia semplicemente un'asta di legno quest'asta poi viene collegata di qui a due fulcri uno e due e poi sopra ci mettiamo dei pesetti quindi possiamo ad esempio mettere qui un peso di 10 kg ok? quindi non si dice peso si dice massa quindi una massa di 10 kg e basta così non complichiamo ulteriormente l'esercizio però vi chiedo secondo voi solo disegnato così i due fulcri devono tirare su tutto il peso in modo uguale o è sbilanciato? il resto l'altro è sbilanciato allora sembra che quello a sinistra faccia più fatica no? perché adesso vediamo chi cioè qual è la qual è la reazione di entrambi allora è un esercizio molto semplice però con le cose che abbiamo fatto nelle lezioni di oggi dell'altra volta noi sappiamo farlo tranquillamente ok? per in tutto quindi bisogna disegnare tutte le forze che partecipano al gioco allora ce ne sono 4 me le dite? forza di gravità allora c'è la forza di gravità la forza peso di questo corpo ok? che lo chiamiamo peso 1 poi cosa c'è anche? la forza dell'asta applicata nel suo varicentro che è peso dell'asta poi ci sono altre due forze ci sono le reazioni vincolari allora la reazione vincolare che compito è applicata qui è al compito di tenere su l'asta e quindi la chiamiamo vabbè la chiamiamo r destra perché è quella destra o r2 uguale e questa qua la chiamiamo r sinistra queste sono ragazzi le forze che sono presenti certo questa cosa ragazzi non è sufficiente però per sapere quanto vale rd ed rs perché possiamo si calcolare più più 1 e pa e però quindi sappiamo rs e rd insieme cosa tengono su ma singolarmente non lo sappiamo vi devo quindi dire anche altre informazioni cioè vi devo dire vi posso ad esempio dire che distanza c'è tra qui e qui ed è 2 metri ovviamente qui è la stessa cosa no? e poi magari vi dico anche cioè ve lo devo dire per forza 2 metri quindi la distanza tra rs e pa e tra rd e pa cioè tra le reazioni e il centro dell'asta e poi vi do anche la distanza che c'è tra il primo fulcro e il primo peso che è di facciamo un metro allora vi sembrerà difficile poter trovare rs ed rd ok ma con i calcoli di adesso noi ci riusciamo tranquillamente e vediamo perché intanto dobbiamo scrivere le forze dal punto di vista vettoriale nulla di più facile ad esempio ne abbiamo 4 quindi adesso noi le scriviamo tutte allora ovviamente poi in meccanica si fa molto più velocemente questo calcolo però per cominciare a capire come si fa allora rs vettoriale quindi vettorialmente che cos'è? allora ha solo componente lungo i j o k scritto così j quindi sarà 0 i più e qui scrivo ragazzi rs k nel senso che rs è un modulo è un numero scritto in questo modo perché non c'è sopra la fraccetta quindi è un numero rs ascolta non k rs j più 0 k questo è un modo per dire il vettore che ho preso è a intensità rs ed è solo lungo più j mi sapete dire quanto vale rd visto che è praticamente identico rd cosa vale 0 i 0 i più rdj più 0 k cioè è solo lungo j anche lui poi sapete dirmi quanto vale più 1 e pa sì intanto più 1 e pa sono lungo che direzione meno j e allora visto che la massa è 10 quanto è il peso quanto vale ragazzi il peso è m per g è la massa per g quindi se una cosa ha massa 10 kg il suo peso è 10 per 9 8 98 è una cosa che abbiamo visto l'altra volta la forza peso ma è una cosa di fisica ma la forza peso vale sempre la massa del corpo quindi la massa del corpo per l'accelerazione di gravità quindi è m1 per g quindi dal punto di vista vettoriale la forza p1 quanto vale lo sappiamo perché è solo lungo intanto j e vale 98 ma più 98 j o meno 98 j meno 98 j perché va verso il basso sappiamo fare una cosa simile invece a pa perché pa cosa fa che massa ha l'asta 30 quindi la sua forza peso devo fare 30 per 9,8 e viene 294 quindi fa 0i meno 294j più 0k va bene allora sembra un po' pesante come diciamo scrittura però intanto abbiamo le forze scritte vettorialmente va bene adesso dobbiamo fare una cosa dobbiamo fare una cosa che si chiama equilibrio delle forze che avete già visto sicuramente e cosa dice quindi lo facciamo un attimo di qui cosa dice l'equilibrio delle forze che se un corpo deve rimanere in equilibrio la somma delle forze deve fare 0 cioè la legge che governa tutto ragazzi è quella che abbiamo visto l'altra volta cioè che la somma deve fare m per a questa è la legge della dinamica ma in caso di equilibrio statico non non c'è accelerazione ok e quindi l'accelerazione fa 0 e quindi si scrive così questo però ragazzi non è l'unica condizione di staticità perché questa la che la somma delle forze delle forze venga a 0 significa che il corpo non sta o comunque il sistema non sta traslando non c'è traslazione quindi non si sta spostando né in giù né a destra né a sinistra però non è la condizione sufficiente perché il corpo potrebbe non traslare ma potrebbe ruotare quindi noi purtroppo come condizione di equilibrio statico nel senso traslazionale rotazionale dobbiamo anche imporre un'altra cosa perché ragazzi la somma dei momenti allora la somma delle forze cos'è che faceva m per facciamolo bene m per a la somma dei momenti dovrebbe fare attenzione se non avete mai sentito meglio il momento d'inerzia per l'accelerazione angolare di un corpo mai sentito perfetto allora questa crea la prima riga crea la traslazione ok e se c'è uno squilibrio di forze il corpo trasla accelerando in una certa direzione ad esempio do un calcio ad una cassa questa cassa riceve una forza e accelera uno squilibrio di momenti cosa crea una rotazione no quindi crea un'accelerazione non in una certa direzione ma un'accelerazione angolare quindi aumenta la velocità angolare del corpo i che gli ingegneri lo probabilmente lo mangiano insieme ai biscotti a colazione perché lo vedono come biscotti a colazione ogni giorno poi quando fanno mentre m è la difficoltà ragazzi m per farvi capire cos'è i allora m è la difficoltà di un corpo se le dai una forza ad accelerare perché più è cicciono una cosa è una resistenza ad una forza ok i è la resistenza al momento cioè più è grande i più è difficile far ruotare un corpo ok questa cosa qui la utilizzano le ballerine alle olimpiadi adesso in nord corea perché se una ballerina vuole accelerare semplicemente si stringe perché diminuisce il proprio momento di inerzia perché diminuisce il proprio momento di inerzia più un corpo si addensa vicino al suo baricentro più ruota velocemente più ti allarghi più il momento di inerzia aumenta e l'accelerazione diminuisce quindi non è una cosa molto lontana diciamo dalla realtà è una versione questa è la versione traslazionale questa rotazionale in un caso di equilibrio il corpo non deve né traslare né ruotare quindi poniamo sia a che alfa uguale a zero quindi si dice che la somma delle forze fa zero e che la somma dei momenti fa zero cioè il corpo non ruota e non trasla quindi quindi la forza risultante totale è nulla e il momento totale è nullo vediamo di impostarlo perché le forze ne abbiamo già scritte ma il momento ancora no quindi avendo quattro forze noi adesso dobbiamo calcolare quattro momenti perché ogni forza crea un momento quindi avremo mrs mrd mp1 ed mpa fatto questo abbiamo praticamente già terminato lo facciamo quindi adesso noi dobbiamo creare il momento di ognuna di queste forze allora facciamo una cosa per essere compatti cancelliamo questo sistema di qui così sulla stessa riga facciamo il momento di ogni forza scoprirete che non è così difficile come sembra quindi adesso dobbiamo fare il momento di rs dal punto di vista vettoriale allora andiamo sul nostro disegno allora qui mi aspetto dai meccanici che mi dicono un po' più di quelli dell'elettrotecnica prima di tutto la domanda è dove metto il polo? allora visto che è una condizione di statica visto che ogni punto è fisso io posso scegliere il polo dove no voglia visto che il polo il raggio vettore è la distanza tra il polo e il punto in cui applico la forza è logico mettere il polo dove ci sono più forze incognite perché quelle hanno un momento nullo quindi il polo o si mette in rs o si mette in rd uno dei due in inglese vondi due allora lo mettiamo in rs quindi mettiamo il polo qua e vediamo le quattro forze cosa fanno allora se il polo è qui noi come facciamo a calcolare il momento di rs perché il polo è qui il punto in cui il punto in cui è applicato rs è 0 quindi io se dovessi calcolare questo momento lo posso fare ok però come modulo ok quindi mrs vettorialmente lo lascio un attimo stare e mi chiedo ma il modulo quanto farebbe perché farebbe l'intensità della forza che non so ok e l'intensità della forza è rs ma il bra sto cavolo di braccio è la distanza che c'è tra il polo e il punto in cui applico la forza ma in questo caso due punti sono la stessa cosa quindi che distanza c'è tra due punti uguali 0 e quindi non mi faccio anche nessuna para su che angolo ci sia tra queste tra raggio vettore e la forza in sostanza perché il modulo fa 0 quindi il mio momento fa 0 vettorialmente cosa vuole dire ragazzi che fa 0i più 0j più 0k vettorialmente non esiste è per quello che visto che le nostre incognite sono mrs ed rd in questo modo abbiamo creato un sistema semplice poi vedremo calcoliamo il primo momento non nullo prendiamo ad esempio il momento di più 1 allora il raggio vettore qual è lo vedete io sì è il raggio che parte dal polo e arriva fino al punto d'applicazione della forza quindi fino a qua in questo caso Nicolò è il braccio già perché il raggio vettore di suo per a cavo ma per questo esercizio è perpendicolare già alla forza infatti io proprio ho vogliato i soldi mi sono sempre ma se sono sempre perpendicolari dovete ringraziare perché altrimenti intervenne il seno allora prima di tutto ragazzi questo vettore questo momento che direzione ha visto che questo è il raggio e P1 è la forza allora prodotto vettoriale nel senso devo mettere il pollice come R la forza come P1 e quindi il momento viene entrante uscente entrante quindi più K o meno K meno K no? quindi è solo meno K tra l'altro essendo solo lungo meno K con la regola del cacciavite metto il pollice come meno K apro e chiude quindi genero una rotazione oraria che ci sta perché P1 genererebbe una rotazione oraria ci ricordiamo che quindi Ne meno K allora dal punto di vista del modulo come facciamo a calcolare il modulo di questo qui prima di calcolarlo vettorialmente allora il modulo quindi lo facciamo in brutta il modulo di P1 sarebbe l'intensità di P1 che lo sappiamo quanto fa per la distanza tra il polo e il punto d'applicazione di P1 ok per il seno dell'angolo che c'è tra questi due vettori allora voi sapete P1 quanto vale sì vabbè sì abbiamo calcolato il primo momento di P1 va bene P1 vale vale mica 98 quindi viene 98 perché è in modulo qui si mette il modulo 98 poi P1 quanto vale cioè quella è la distanza tra il polo e il punto in cui applico la forza era un metro ok quindi viene 98 per 1 e che angolo c'è tra P1 e il braccio e il raggio c'è 90 quindi il raggio è il braccio in questo caso va bene quindi quando vado a calcolare qui viene il seno di 90 quindi viene 98 per 1 per il seno di 90 che fa 98 attenzione in modulo quindi io so che è lungo 98 dove lo metto questa cosa qui quando io vado a scrivere adesso il momento di P1 e quindi lo vado a mettere qui il momento di P1 io intanto so che è lungo 98 e che andava come meno K quindi come mai si scriverà una roba del genere 0i più 0j meno 98 K ci siamo? perché è una cosa lunga 98 in direzione meno K ora senza rifare tutti i calcoli del mondo e solo guardando il disegno mi sapete trovare il momento dell'altra forza peso? perché uno dovrebbe intanto andare a disegnare il raggio vettore che questa volta è sempre tra il polo e questo qua questa volta il raggio è ancora al braccio perché è perpendicolare e qual è la differenza? guardiamo intanto la rotazione la rotazione è uguale cioè abbiamo raggio PA va in giù il momento è sempre entrante quindi è un meno K e meno K crea anche lui una rotazione oraria in più adesso che siamo un po' svegli su queste cose sapete quanto vale il modulo del momento di PA? varrà il modulo della forza che faceva 294 per 298 94 per la lunghezza del segmento del vettore rosso che era quanto vale? 2 è questo qua 2 quindi viene 294 per 2 per il seno di 90 nessuno fa questo beh il seno di 90 fa 1 perché è massimo viene 588 in modulo quindi vettorialmente me lo sapete scrivere? non è molto diverso perché quindi il momento di P2 che è un vettore viene è solo lungo meno K ed è intenso 538 quindi sarà una cosa del genere ci manca ragazzi soltanto il momento di RD adesso vediamo allora il momento di RD allora prima di tutto calcoliamolo in modulo anzi prima facciamo la visione vettoriale eccolo qua allora RD vedete il vettore R il vettore R cosa va? va dal polo fino al al punto di applicazione della forza quindi è lungo 4 no? e il momento come è fatto? è un più K o un meno K? allora pollice come R indice come RD il terzo esce come un più K quindi con la regola del cacciavite un più K genera una rotazione anti-oraria che infatti se ci pensate deve controbilanciare le rotazioni orarie degli altri due corpi degli altri due pesi ok? quindi intanto è un più K essendo un più K e basta io qui intanto so già che è 0I più 0J più K e qui ci devo mettere semplicemente il suo modulo allora domanda il modulo quanto vale? verrebbe RD perché RD non lo so il modulo poi sarebbe per il raggio vettore quanto fa? 4 quindi 4 per il seno di 90 K allora RD per 4 per il seno di 90 fa 4RD e quindi lo andiamo a scrivere 4RD K bene adesso ragazzi noi dobbiamo andare a fare quel sistemino là che sembra una cosa molto difficile ma scritto così risulterà molto semplice poi ovviamente non è che tutti i calcoli poi voi ci metterete un'ora così a farli poi diventa più semplice però la visione vettoriale è questa forze momenti allora una cosa per qui di meccanica loro pensano noi non abbiamo mai visto le forze scritte in questo modo soprattutto dirette lungo K per forza perché nei vostri disegni che farete se li avete solo disegnate lungo I e J quindi voi farete soltanto l'equilibrio lungo X l'equilibrio lungo Y perché lo fate lungo Z perché lungo Z fate l'equilibrio dei momenti che vivono solo lungo K il vostro sistema in meccanica è non c'entra niente no lo so ma però ho capito cosa intende però ma non c'entra ragazzi in molti sistemi di meccanica si dice che si fa l'equilibrio XYZ ma cosa intendi che se voi avete forze solo lungo X e Y è logico che i momenti dovendo essere perpendicolari saranno solo lungo K lungo l'asse Z quindi molte volte quando si fa la somma delle forze uguale a 0 adesso vi faccio vedere come si fa guardate io dovrei fare la somma delle forze vettorialmente uguale a 0 allora questa cosa qua va ovviamente scomposta nella direzione X Y e 0 e scopate X Y e Z o lungo IJK allora però vediamo le direzioni utili e sensate guardiamo le forze quindi la parte che c'è a sinistra lungo la direzione X se io faccio la somma delle forze uguali a 0 cosa viene? viene 0 più 0 più 0 più 0 uguale a 0 che è una riga che non so quanto mi interessi perché che 0 faceva 0 lo sapevo già quindi si dice quindi che dal punto di vista delle forze lungo X non ho niente non la scrivo neanche allora dal punto di vista sempre delle forze quindi questo è il mondo diciamo la prima parte sarà il mondo delle forze poi avremo la parte dei momenti l'equilibrio delle forze ragazzi potrebbe creare da sola tre linee perché sarebbe la prima viene 0 uguale a 0 la seconda cosa viene? viene RS la somma quindi viene RS più RD meno 98 meno 294 questa ragazzi è la somma vettoriale delle forze uguale a 0 e cosa avverrebbe la terza riga dal punto di vista delle forze? 0 più 0 più 0 più 0 uguale a 0 che è un'altra riga completamente inutile quindi le forze mi creano sempre tre equazioni ma in questo caso due sono completamente inutili quindi non le scrivo neanche allora i momenti anche loro essendo espressi in 3D creano tra di loro altre tre equazioni ma due sono inutili perché lungo la direzione i ho già equilibrio rotazionale perché non c'è niente lungo j stessa cosa quindi per i momenti che creano comunque tre equazioni la prima è 0 uguale a 0 la seconda è 0 uguale a 0 la terza che è l'unica con cui posso trovare qualcosa fa 0 più 4 RD meno 98 meno 588 uguale a 0 quindi cancello quelle inutili e scrivo 4RD meno 98 meno 588 uguale a 0 questo ragazzi è il famoso sistema che voi create quando avete un sistema di forza poi vi ho fatto capire perché è più complesso di quello che cioè vi ho fatto capire la complessità di una cosa del genere cioè è un discorso vittoriale in cui forze e momenti sono hanno tre componenti ognuna x y z e si fa l'equilibrio in tutte le direzioni qui 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 quindi a posteriore si può dire che dobbiamo solo bilanciare le forze dal punto di vista verticale e solo bilanciare i momenti dal punto di vista rotazionale orario anti-orario allora questo sistemino qui è una cavolata a trovare RS e RD perché RD come si fa RD lo troviamo dalla seconda perché faccio 588 sposto di là e viene 588 più 98 il tutto diviso 4 quindi la reazione viene 171.5 ok permettiamo anche l'unità di misura ma adesso non è fondamentale perché stiamo facendo calcoli matematici allora adesso che abbiamo RD si può trovare RS perché basta che faccia RS uguale a allora devo fare 98 più 294 meno 171.5 viene 220 virgola 5 allora entrambi sono forze quindi sono espressi in Newton lo mettiamo alla fine tanto da non appesantirci il calcolo e adesso noi andiamo abbiamo finito per oggi andiamo solo a vedere cosa abbiamo ottenuto allora andiamo a vedere il disegno ricordiamoci quindi che RS è più elevato vediamo se ha senso andiamo a vedere il nostro disegno in cui cancellando un po' di roba vediamo solo se tutto ha senso allora avevamo messo un pesetto qui ok e avendo caricato un peso qui ovviamente a occhio avremmo detto che RS faceva più fatica di RD è vero infatti cosa succede che mettendo un pesetto RS ed RD insieme devono controbilanciare solo il peso dei due ma come si distribuiscono le forze loro due in modo simmetrico no ok RS deve essere più elevato di RD abbiamo trovato anche di quanto perché più o meno uno fa 220 minuti nell'altro fa 171 e mezzo quindi come esercizietto cosa vi potrei dare una cosa simile quindi vi potrei dare un piccolo sistema simile in cui vi do però due pesi ok questo di 3 chili questo di 5 chili vi do le distanze quindi da qua a qua si hanno 5 metri la distanza diciamo dal fulcro ai 5 chili è di un metro e la distanza da l'altro fulcro a questo peso è invece facciamo sì facciamo 1,25 e ovviamente abbiamo anche il peso dell'asta ok che ha una massa di 10 chili cosa vi chiederò mai la stessa cosa quindi ovviamente la distanza dal fulcro a qui è 2,5 e vi posso chiedere quanto vale r s e r d ok ciao 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 ciao